Ciao, sono Enrico, sono in mezzo dall'incirca un anno e qualche mese, sono un plant control developer, mi occupo di sviluppo software e testo dei nuovi controllori. Passo la mia giornata fondamentalmente a programmare e testare questi nuovi controllori che stiamo sviluppando per il controllo delle unità idroniche. Sono Giovanni e sono uno sviluppatore di software e controllori idronici, quindi mi occupo di tutto ciò che riguarda il funzionamento vero e proprio delle nostre unità e quindi al di là di questo anche l'interfacciamento con altri dispositivi. Cosa mi piace il mio lavoro? Allora hai la possibilità di andare all'estero, hai la possibilità di viaggiare anche nelle varie sedi italiane, hai la possibilità di vedere vari lati del mondo idronico, che sia semplicemente lo sviluppo software o il test, ma anche vederli in funzioni direttamente in campo. Il mio lavoro mi piace perché è estremamente vario, non ci si annoia sicuramente, infatti pur essendo un programmatore non passo tutta la giornata dietro allo schermo di un computer, ma ho modo di interfacciarmi con tutti i rami dell'azienda, che quindi può essere il marketing, il post vendita, il collaudo o la progettazione stessa.